Sono il dottor Alberto Orlandi, un specialista in chirurgia plastica di Milano e Lugano. Abbiamo aderito io e i miei collaboratori a questa prima manifestazione di Intercare. È un evento che secondo me avrà un seguito importantissimo nei prossimi anni e riteniamo che ci siano degli sviluppi positivi per quello che riguarda il turismo medicale. Noi dal nostro canto abbiamo elaborato un piano di trattamento soprattutto per quanto riguarda la chirurgia estetica mini-invasiva, la liposuzione laser, che è una chirurgia meno aggressiva della tradizionale liposuzione che permette dei recuperi in termini di ripresa lavorativa e sociale, di vita sociale, più rapidi rispetto a quelli che sono i normali tempi di recupero. Abbiamo sede a Milano e Lugano, dove abbiamo questa sede nuova che aprirà a settembre e che ci permetterà di ospitare sia i turisti che non e poterli accogliere e gestire da un punto di vista medico con la massima attenzione possibile. La struttura si chiamerà Maeva, che in taitiano significa benvenuti. Mi auguro che siano contenti un domani degli risultati e se ne possano tornare a casa felici e dopo aver visto una location di grande effetto. Grazie.